Ciao e oggi vi farò vedere il mega unboxing di prodotti Pampling che ho acquistato nell'ultimo periodo Iniziamo subito con una maglia a maniche lunghe a tema Dragon Ball come ben vedete dall'immagine rappresentato più che su una nuova speedy su uno snowboard Poi abbiamo una maglia a maniche corte con come vedete stampato un codice QR con all'interno un fantasma di Pac-Man Quindi questo è a tema Pac-Man Questa maglia a maniche corte con la scritta Please Stand By con un disegno bellissimo Veramente lo adoro Altra maglia stile anime come vedete qui dal disegno solo impresso E questa è anche un'altra maglia a maniche corte Maglia a maniche lunghe quest'altra invece come state notando Con un disegno di attacco dei giganti Stile molto nerd Questa è una velpa a maniche lunghe come ben vedete ed è raffigurato Iron Man in versione un po' rocchettara Ecco con uno stile un po' pazzurdo così definirei Con su scritto appunto Iron Maiden Poi abbiamo una tazza con raffigurato il dinosauro di Chrome E chi non ha mai giocato al dinosauro di Chrome quando la connessione non funzionava E devo dire una tazza molto figa E per finire quest'unboxing abbiamo dei calzini con dei teschi raffigurati Tutti questi prodotti li trovate su Pampling E codice sconto per P00 Avete un ulteriore sconto